Un grande partito che ha sicuramente un merito è quello di avere rimesso il tema del lavoro anche al centro del dibattito politico, mentre finora era la nostra fatica solo di organizzazioni sindacali. Abbiamo cominciato a vedere i titoli e le proposte del cosiddetto Job Act, avremmo sperato in una maggiore ambizione a partire dal tema della creazione del lavoro e dall'individuazione delle risorse, penso alla patrimoniale come una dei fonti fondamentali per avere risorse per creare lavoro, però è già molto importante che il tema del lavoro torni al centro del dibattito politico.